La strategia liturgica che Salvini mette in atto ogni giorno e anche questa cosa qui dell'attacco alla magistratura prima per la roba della Lega e poi anzi precedentemente per la 18 rientra nel campo, nel raggio d'azione mediatico di Salvini che comunque vuole mantenere l'attenzione della sticella sempre più alta rispetto ai propri lati di governo non è un caso che tuttora anche stamattina Salvini ha il 33,1% dei sondaggi, cioè continua a salire poi possiamo fare le analisi che volete quindi specchi, la prossima volta troviamo Salvini che fa un balletto nudo perché deve tenere alto la sticella dell'interesse ma è perversione pura è un'opinione tua, è una situazione, Berlusconi l'ha adottata per un sacco di anni, idem, ha fatto Renzi se vogliamo applicare il parametro secondo te può essere perversione pura anche la strategia berlusconiana quella renziana, quella fatta dai vari governi ma insomma comunque rientra ormai la politica è anche media è anche astrazione astrazione ciao